SIGLA Ok, ascolta. Niente filtro stavolta. Siamo soltanto tu, io e la verità. Hai superato tutti gli ostacoli del deserto. Ma vedi, quelle erano solo le qualifiche. Un modo per trovare un pilota che sappia affrontare la vera competizione. Vedi, io faccio parte di una specie di club. Siamo un gruppo di otto ex piloti sportivi. Ognuno di noi ha selezionato e testato un campione per il grande evento di oggi. I piloti che affronterai sono gli altri vincitori. Nulla a che vedere con i bagliacci che hai battuto prima. Sono la cretta e la diretta. Dimentica la tua strecca. Oggi guiderai un hypercar tra le vette innevate delle montagne rocciose. Ora siamo una squadra. Per cui io ti terrò informato sugli ostacoli e le condizioni della strada. Ma tocca a te portare al traguardo questo gioiellino. Stiamo per atterrare a San Francisco. Qualunque cosa accada, non perdere la concentrazione. Segui i segnali e ricorda. Abbiamo tutto quello che serve per vincere. Grazie a tutti.